La nostra azienda produce scooter elettrici, possiamo dire che siamo tra le poche aziende, possiamo contarci sulle dita di una mano in Italia, le aziende che producono veicoli elettrici con le nostre caratteristiche perché noi facciamo veicoli di una fascia un po' superiore rispetto agli altri. Abbiamo veicoli che a due persone riescono a partire finalmente sulle salite, omologate per due persone, le omologiamo come 125, alla fine creiamo un prodotto che possa essere di uso quotidiano, ossia facciamo gli scooter, abbiamo tre modelli di scooter e adesso quest'anno avremo l'omologazione per l'evoluzione che è la nuova moto che ha delle caratteristiche nettamente superiori a tutti gli scooter. Energy Med perché siamo verdi, infatti c'è sempre un po' di verde nei nostri colori proprio perché dobbiamo aiutare la natura e quindi un po' con i risparmi energetici, un pochettino con il verde non facciamo rumore, consumiamo poco perché fai il pieno e fai 200 km con 2 euro, quindi ci sta anche questo risparmio energetico. Insomma non date proprio fastidio. Non diamo fastidio.